Un saluto dal TG della mobilità. Corsie preferenziali dal 9 di maggio è prevista l'attivazione di nuove telecamere per il controllo dei transiti dei veicoli non autorizzati. Le telecamere di controllo dal 9 maggio saranno accese sulle corsie preferenziali di Via Emanuele Filiberto, Viale Libia e Viale Eritrea, Via Cicerone e Via Vittoria Colonna, Lungotevere dei Sangallo, Via Volturno, Via dei Fori Imperiali e Via Laurentina.